dal 1890 bolafi azienda protagonista nel mondo del collezionismo filatelico e numismatico sono alessandro gea e mi occupo del coordinamento dell'attività televisiva in bolafi vi aspettiamo con le nostre nuove trasmissioni il lunedì dalle 18 alle 24 sui canali 127 e 132 del digitale terrestre sky 825 il martedì dalle 17 alle 20 sul canale 132 del digitale terrestre e sky 825 e la sera dalle 21 alle 24 sui canali 127 e 132 e su sky 825 il giovedì dalle 21 alle 24 sui canali 127 e 132 del digitale terrestre e su sky 825 il venerdì dalle 21 alle 24 sui canali 127 e 132 del digitale terrestre e su sky 825 la domenica dalle 21 alle 24 sul canale 132 del digitale terrestre tutta la nostra programmazione la potrete vedere anche sul nostro sito bolafi.it e seguire le nostre trasmissioni in diretta in streaming vi aspettiamo non mancate